Alla scoperta da Cireale di alcuni aspetti di vita che ormai, per le nuove generazioni, sono sempre più merce rara, oltre che difficili da trovare soprattutto nelle città. Aspetti però che pur sempre fanno parte, in un modo o nell'altro, della quotidianità. Nella parrocchia Maria Santissima degli Ammalati, guidata da don Claudio Catalano, si sta portando avanti un progetto che, con il coordinamento del dinamico sacerdote, intende proprio coinvolgere le scuole del territorio acese. Questa mattina, ospiti negli spazi parrocchiali, sono stati quindi i bambini del plesso Giuseppe Racitti di Acireale, facendo parte del primo istituto comprensivo Pasini, e ancora allievi della scuola media, con sede proprio nella frazione di Santa Maria Ammalati. Stupore da parte di tutti gli ospiti, sia piccoli che più grandicelli, accompagnati dai loro insegnanti, nell'osservare la nascita della ricotta o del formaggio, ancora essere protagonisti direttamente della muncitura del latte, da due caprette presenti, e inoltre vedere le fasi di produzione del pane. Noi come parrocchia, con l'aiuto dell'oratorio parrocchiale, abbiamo iniziato questi percorsi, alcuni già c'erano, noi li abbiamo solitamente arricchiti. Le arricchopette delle vecchie tradizioni, il fare il pane, l'olio, abbiamo fatto la vendemia, oggi abbiamo il percorso del formaggio e della ricotta. I bambini vivranno un'esperienza che non avvia quasi mai nessuno, mungeranno due capre e poi vedranno come si fa la ricotta e il formaggio, e mangeranno ricotta calda e pane caldo. La arricchopetta della bezzaro sta insieme con le cose indiche, che sono la nostra storia, la nostra tradizione, che ahimè pian piano si va perdendo. Ma questo già si vede la gioia dei bambini solo a vedere gli animali, poi a toccarli ancora di più. Un'esperienza perciò certamente indimenticabile per tutti i presenti, frutto dell'impegno di Don Claudio, disponibile a fare vivere tutto ciò, anche a tutte quelle scuole che avessero piacere a trascorrere in tal modo una mattinata alla scoperta di un mondo fatto da tanta manualità, che non è quella certamente dell'uso del computer o del cellulare. Abbiamo varie tappe perché cerchiamo di coinvolgere e di invitare per tutte le scuole di Acideare. Oggi ci sono le scuole elementari dei Acidi e le scuole medie qui di Santa Maria Marati. Abbiamo già avuto le scuole del Pasini, alcune classi del Pasini, e comunque dopo Pasqua riprenderemo con altre scuole. Dovrebbe venire anche la Gallireo Gallirei, la Paolo Vasta, varie scuole insieme. Grazie a tutti.